Prima il Presidente Bernie sottolineava quanto delle volte si affrontano dei temi in termini ideologici, mentre uno deve semplificare il concetto, per esempio sulla vicenda degli allevamenti. Sulla vicenda degli allevamenti non entro nel dibattito se è giusto quanti capi, perché lo ha fatto già l'Europa, ha lavorato su questo, ha normato. I nostri allevamenti sono i più sostenibili del pianeta. Non c'è altro continente nel quale il benessere animale venga tenuto in così alta considerazione. Vorremmo di meglio, vorremmo di più, si può fare tutto, però uno deve sapere che tutto ha un costo ed è un costo elevato. Quando uno parla della differenza tra allevamento, per semplificare, intensivo ed estensivo, deve chiedere al cittadino se è disponibile a pagare il prodotto 10, 20, 30 volte più di quanto lo paga adesso. E se la risposta è no, quel cittadino deve sapere che non comprerà più il prodotto a basso costo o a costo equo proveniente dai nostri allevamenti, ma lo comprerà da allevamenti di altri continenti che impattano sull'ambiente e sul benessere animale 10, 20, 30, 40 volte più di quanto fa un qualsiasi nostro allevamento.